Ciao ragazzi, buongiorno. Ho voglia di condividere con voi quello che ho fatto oggi. Allora, stamattina avevo conservato la maschera oro che avevo tenuto in frigorifero dopo averla fatta nel suo liquido e ho deciso stamattina di regalarmi il bagno. Mi avevano detto che avrei dovuto sciogliere la maschera oro nella vasca da bagno e poi immergermi dentro. Io ho fatto una cosa un po' diversa, ossia ho fatto una doccia veloce, ho usato il sapone per lavarmi i capelli, corpo eccetera, mi sono sciacquata e poi ho messo pochissima acqua nella vasca da bagno e la maschera l'ho utilizzata per, diciamo, l'ho passata su tutto il corpo, l'ho raccolta come se fosse una piccola spugna e piano piano mi si è sciolta nelle mani fino poi a far diventare l'acqua un giallo oro, insomma. L'effetto è stato incredibile, veramente incredibile perché la pelle è assolutamente morbida, setosa, è inutile dire che l'ho passata anche sul viso, l'ho ripassata sui capelli e la morbidezza e la lucentezza della pelle è da provare. Quindi vi suggerisco, quando farete la vostra maschera oro, di utilizzarla poi passandola su tutto il corpo appena ne avrete voglia e tempo. Ok? Vi saluto e una buona giornata!